Buongiorno Spalletti, la partita di domani per alcuni rappresenta il compimento di un'opera, un percorso cominciato tanti anni fa, ripensando anche al Napoli di Sarri che si completa, che si sta completando quest'anno aspettando il termine del campionato, per altri invece è un taglionetto con il passato, c'è una linea di demarcazione, questa squadra ha dimostrato di essere diversa e superiore a quel Napoli, qual è il suo punto di vista? Il mio punto di vista è che è vero che ci portiamo dietro una cultura di lavoro che hanno iniziato anche gli altri, ci portiamo dietro anche un modo di stare in campo che erano caratteristiche di calciatori che hanno preceduto questi qua. Io vedo che Sarri ha delle cose che sono simili, cioè ci piace andare in tuta tutte e due, anche quando passeggio mi arrivo a portare le scarpette a 13, poi questa idea di voler fare la partita, di voler comandare il gioco, perché attraverso quella che è, perché è stato anche un tema dell'ultimo periodo, possesso palla o non possesso palla, il possesso palla dà la possibilità di decidere dove andare a giocare la partita, poi è chiaro che è fondamentale sapere alternare ritmi e dimensioni di questo possesso palla, ma qui poi si va a fare dei discorsi un pochettino più profondi, ecco che dice gioco verticale, anche gioco verticale perché bisogna sapere alternare, poi gli altri vengono a prenderti, non vengono a prenderti, se vengono a prenderti, è chiaro che debbono avere delle dimensioni di squadra a cui nessuno può farne a meno, perché se vai a prendere la difesa deve salire, perché se no ti giocano dentro, poi ti vanno dietro la linea e diventa ancora peggio. Per cui tutti questi discorsi qua, lui secondo me è stato un po' un masagnello dal punto di vista calcistico Sarri, perché si è reso un capopopolo di una rivolta di modo di vedere il calcio, perché Sarri, come io ho detto già in precedenza, mi ha avuto la fortuna di essere a casa, di poter scegliere il partito a vedere, sceglievo sempre di vedere il Napoli, ero davanti alla televisione, da me solo sul divano, in piedi ad applaudire il Napoli, quando giocava il Napoli di Sarri, per cui questo fatto qui, per me la bellezza del calcio, e non mi importa se è meglio o se è peggio, io ho preso quello che volevo prendere, quando ho potuto sono andato a vedere le partite che ha giocato il Napoli di Sarri, sui campi di Castelvolturno, di allenamento, ancora ci sono le linee di passaggio del calcio che faceva Sarri, e quando la palla finisce in una di quelle linee, arriva ancora più veloce, ancora più precisa a destinazione, per cui questo è il mio pensiero su Sarri, e non me ne frega di paragoni, insomma. Sport Italia si prepara a Radio Fischis. Buonasera mister, io torno un po' più indietro alle percezioni, all'atmosfera della città, perché chi ha vissuto, magari qui in mezzo a noi c'è qualcuno che ricorda i tempi di Maradona, c'è una percezione diversa, un'atmosfera un po' più contenuta, c'è più equilibrio da parte della piazza rispetto ad un'attesa. Ecco, da che cosa dipende secondo lei? Dalla maturità della piazza, magari anche dalle delusioni del passato, o anche perché si sta mettendo un po' in pratica quelli che sono i suoi pensieri, di vivere questo viaggio partita dopo partita. Grazie. Sicuramente da una conoscenza del calcio in generale, da una maturità di saper valutare le cose come funzionano anche nella vita normale, quello che diventa fondamentale è che i nostri tifosi non vadano ad aspettarci all'arrivo, ma che scendano in campo tutte le partite insieme a noi come hanno fatto in questo periodo, e che non diano retta a quelli che vogliono farci levare le mani dal volante, alzandole in segno di vittoria, mentre abbiamo ancora molte curve da dover passare, e queste curve possono farti sbandare. Per cui questa maturità, io ho sentito anche messaggi di migranti a giro per il mondo che dicevano che si emozionano ogni volta che gioca il Napoli, e per noi la loro emozione diventa fondamentale se riescono a farcela sentire vicina partita dopo partita, senza andare ad anticipare, come diceva lei, eventuali discorsi futuri. Radio Kis Kis e si prepara il Corriere della Sera. Buon pomeriggio mister, eccomi qui. Io ripartirei dall'intervista bellissima che oggi ha rilasciato Victor Rosimane ai colleghi del Corriere della Sera. Ormai capita sempre così che ogni suo calciatore quando rilascia un'intervista spende delle parole dell'oggio che siano però profonde per lei e che a volte esulano anche dal terreno di gioco. Non le chiedo, questa ovviamente è a testimonianza del fatto che lei è riuscito ad entrare proprio nella testa dei suoi calciatori e forse anche nel cuore. Non le chiedo come fa perché immagino che questo sia uno dei trucchi del suo mestiere, però le chiedo se questo è uno dei segreti per poter puntare in alto e per poter ambire a determinati traguardi. Provi un po' a intervistare Demme, poi provi a intervistare quelli che giocano di meno e vediamo se è lo stesso discorso. Demme ho detto uno di quelli che meriterebbe di giocare per qualità di gioco, perché è un calciatore esperto che sa fare bene il suo lavoro. Per me diventa sempre facile poi lavorare con delle persone, dei ragazzi che hanno qualità, attitudini alla disponibilità, a saper anche ascoltare, avere la voglia di apprendere sempre qualcosa di più, perché c'è sempre la possibilità di andare avanti se tu hai la disponibilità. Hai capito che sei te o non hai capito? Perché se no te lo ridisci, glielo ridisci te. E quindi è sempre la loro di qualità, non è la mia, capito? Loro sono calciatori forti, come avete detto più volte, sono persone che hanno una disponibilità al lavoro, e questo fa la differenza, insomma. Poi li ringrazio, quando parlam bene di me li ringrazio, ma sono sempre loro gli artefici di tutto quello che sta succedendo. Corriere della Sera, dopo che l'abbiamo avvisato, Corriere dello Sport. Allora, il manifesto del Napoli di Sarri è stato e probabilmente sarà la grande bellezza. Qual è il manifesto invece del suo Napoli? E se lei fosse un osservatore esterno, quindi le chiedo di astrarsi dal suo ruolo, quali sono le differenze tra questo Napoli e quel Napoli? Perché le differenze immagino ce ne siano, ci sono. Ma il mio manifesto non lo so qual è, nemmeno quello di Sarri, perché lo sa lui. Noi bisogna avere il coraggio di andare a giocare le partite, ma qui parte sempre da chi sei, da che calcio ti piace fare, da dove vuoi andare a finire, perché poi si ha sempre davanti delle persone e queste persone diventa più stimolante dirgli diamo una bastonata davanti o cominciamo a giocare da qui e si va a portare il discorso dove si vuole comandando quello che ci stanno in mezzo. Secondo me, per quello che ho fatto il calciatore, diventa più stimolante, questo diventa più stimolante. e si cerca di percorrere un qualcosa che ci piace, da un punto di vista mio, è questo che è il reputo fondamentale per andare a proporre un calcio da fare a miei calciatori. A me non piace fare un calcio dove sto tutti davanti alla difesa, non l'ho mai fatto, oppure ho perso spesso. non mi piace, se una cosa non mi piace non la so raccontare, non la so interpretare, non la so far piacere a loro che diventano quelli fondamentali. Io penso che siamo contenti ora di giocare a pallone e di giocare il calcio che giocano e se tu cominci a fare così poi c'è sempre lo step successivo alla qualità, alla bellezza del calcio, perché è quello che piace alla gente. Quando sono arrivato qui, quella che è stata una delle battaglie che ho tentato di fare è quella di riportare la gente allo stadio, perché è segno che facciamo qualcosa che a loro crea sensazioni, che a loro crea emozioni. Siccome è uno spettatore di quelli arguti, del tifoso napoletano, bisogna andare a tirargliele fuori queste qualità e a fargliele riconoscere sul calcio giocato. Per cui si va a fare quella cosa lì, punto e basta. Poi si vede dove si va a finire, ma niente ci può turbare, se non poi qualcosa di cramoroso. Si va a cominciare e non si sa dove si finisce. Le differenze non le so, io sono più spreciso di lui, lui è più ordinato di me, questo di sicuro in campo. Da un punto di vista di modo di stare in campo è leggibile quello che è la sua quadratura tattica da un punto di vista difensivo, da un punto di vista di controffensiva, da un punto di vista di pressione. Ogni volta vedo giocare anche la Lazio, che sta facendo un calcio bellissimo, non solo quello del Napoli, ma gli si riconosce questa chiusura totale. Cioè, noi domani una delle cose che dobbiamo fare è trovare la finestra dove prendono aria, perché dalla porta non si passa di sicuro, perché loro ce l'hanno chiusa a doppia mandata la porta, sono tutti sempre precisi, scappano tutti insieme, attaccano tutti insieme. È un corpo unico in tutte le cose che fanno la Lazio. I miei ogni tanto due attaccano e due scappano, perché si va un po' a giocare addosso a quello che fa un po' l'avversario. E da un punto di vista di praticità non lo so qual è meglio. A me piace più così. A lui bisogna vedere, bisogna domandagli e sentire quello che dice, perché ha sempre risposte interessanti dalle quali c'è da prendere. Grazie. Grazie a lei. Corriere dello Sport e si prepara la gazzetta dello Sport. Visto che è difficile immaginare il futuro, proviamo dal passato. Ma quando Spalletti ha cominciato ad allenare o nel corso della sua carriera, ha mai sognato di vincere lo Scudetto? Si gioca a tutti per vincere qualcosa. L'obiettivo di quando si comincia a fare un lavoro è di arrivare più in là possibile. Se questo è più in là possibile è uno Scudetto, è chiaro che l'obiettivo diventa anche quello lì. Però poi ci sono anche altre cose che danno soddisfazione. perché per esempio da un punto di vista mio io non sono di quelli che vincere a tutti i costi e poi l'anno dopo magari fallire. Sono uno di quelli che mi piace collaborare con la società, andare a fare un discorso più corretto perché io ho sempre collaborato con qualsiasi società dove ho lavorato cercando di proporre e di produrre un lavoro che permettesse di fare un passo per volta e di arrivare poi a degli obiettivi comuni che erano nella possibilità di quella società lì. Gazzetta dello Sport e si prepara il mattino. Buongiorno. È più facile ricordare oggi la serie infinita di successi però proprio con la Lazio all'andata fu un po' un momento spartiacco, un momento chiave. Cioè venivate da due pareggi poi cominciava la serie delle partite ogni tre giorni e Liverpool subito dopo la Lazio. Parte la Lazio benissimo, andate sotto. Sono quei momenti che può girare tutto in un verso o nell'altro. Voglio dire, poi lo sport è fatto anche di questo al di là delle capacità proprie. Ripensando a quel momento come lo ha vissuto e come lo vede oggi. Ma secondo me sono state le due partite precedenti, non quelle successive o quella lì che hanno dato la svolta. Quelle dei pareggi. Nel senso che hanno mantenuto la stessa mentalità, la stessa ricerca. hanno creato una disponibilità al sacrificio e alle sollecitazioni che si stavano cercando di dare in maniera corretta e poi c'è un momento dove la cosa si dice ma non sei di quel livello lì. Continua a fare le cose. Ma non sei di quel livello lì. Continua a fare le cose. Poi un giorno forza di fare le stesse cose ti alzi e il livello è differente. Ma come è successo? E' stata la costanza di lavorare sempre a quel ritmo lì credendo che poi quel livello lì possa diventare differente e questo succede sempre. Perché perché se no non avrebbe significato il modo di lavorare, non avrebbe significato la personalità, non avrebbe significato quella che è una una disponibilità al sacrificio tutte quelle belle parole che diciamo sempre. Il mattino e si prepara cronache di Napoli. Salve. Buongiorno a lei. Buongiorno. Ha definito Sarri il masaniello del calcio. A lei a chi piacerebbe essere paragonato e la seconda mi consente. Sarri nel 2018 parlò di uno scudetto perso in albergo perché vide un Inter Juventus in cui l'Inter di Spalletti venne sconfitta in casa proprio dei bianconeri. Ma i scudetti si perdono in albergo o non è così? Grazie. Allora per quanto mi riguarda lasciamo perdere. Per quanto riguarda il discorso di quello che disse Sarri bisogna dirlo a lui anche se quel risultato lì è un po' ha influito su quella che era una corsa secondo lui molto secondo lui molto però io prendo sempre me per obiettivo alle fallo stazzito un attimo fallo stazzito un attimo scusa io prendo sempre me come obiettivo alle cose che non vanno come vorrei non gli altri perché noi giochiamo le nostre partite e voi giocate le vostre per cui è vero che quella lì la stavamo vincendo è vero che ho fatto delle sostituzioni che probabilmente hanno determinato quella quella roba lì perché poi tutti si va a finire lì secondo me le rifarei magari dando dei dettami differenti per come vedi che andava la cosa perché perché eravamo molto sofferenti in quel momento lì dovendo giocare una partita in inferiorità però che io sia il responsabile di quello che avete fatto voi vi ringrazio di tutta l'importanza che mi date ma non sono così se gli scudetti si perdono vedendo le parti mi chiedo scusa non parlavo di sua responsabilità magari ho capito male io si infatti la chiarisco se gli scudetti si perdono anche in albergo nel senso quel risultato abbiano condizionato poi le partite successive da Napoli era questa la mia domanda non certo su e la responsabilità a questo gli ho risposto dicendo che il riferimento era all'errore di Orsato di cui Sarvi ha sempre parlato io non vado a parlare degli errori di nessuno io torno a ripetere che scelgo sempre me come responsabile delle cose che non vanno come vorrei punto per cui tutti fanno quell'analisi lì e si va tutti d'accordo perché io non voglio dare responsabilità a nessuno la do a me stesso perché abbiamo sbagliato dei gol perché perché da ultimo probabilmente c'era la possibilità di atteggiarsi in maniera diversa come squadra se la squadra si è atteggiata così sono responsabile perché l'allenatore sono io e quello che abbiamo fatto in dieci domenica Empoli lo potevamo fare gli ultimi dieci minuti anche se l'avversario era la Juventus e davanti avevamo una delle squadre più forti del campionato non sono io responsabile Cronaca di Napoli lo voglio ribadire lo stesso perché non per colpa sua per colpa di chi la può interpretare come gli pare Cronaca di Napoli si prepara Radio CRC buongiorno buongiorno a lei mi ha colpito anche a me mi ha colpito quando non era d'accordo quando parlava il suo collega accanto mi vuol spiegare come mai non ho capito anche a me mi ha colpito quando parlava quando parlava su quella domanda del suo collega allora le tolgo subito la curiosità sono d'accordissimo con lei perché lei non ha alcuna responsabilità per essere l'allenatore dell'Inter e non del Napoli quindi le chiarisco quello che stavo dicendo visto che ha la curiosità grazie veniamo no prego veniamo alla domanda mi ha colpito un post di qualche giorno fa di una pagina facebook dei tifosi dell'Inter dove si ricordavano i suoi successi in carriera e dove la cosa curiosa è che la si chiamava comandante la vigilia di Napoli Lazio questo è bizzarro visto che comandante era il soprannome di Sarri però lei chiedo c'è un pizzico anche di rivincita di Luciano Spalletti che ora è celebrato come maestro del calcio l'allenatore del Napoli che è secondo la CBS la squadra più forte del mondo ma che secondo alcuni vabbè però non ha vinto lo scudetto in Italia quanto c'è di un pizzico di rivincita in questo? io non gioco non alleno non non vado a fare pensieri che possano suscitare delle rivincite verso nessuno io devo tentare di far bene il mio lavoro come dice il presidente fare bene e basta non devo fare altro perché poi sono risultati del calcio giocato che fanno che fanno la differenza la faccina dei tifosi dell'Inter non so a quale lei si riferisce però mi fanno piacere ci sono due o tre pagine ora su Facebook che è una cosa sì ho spalletti emozioni è la stessa sono quelle che che mi sono sono pochi sono novecentomila qualcosa del genere per cui no sono novantamila non novecentomila però sono tanti lo stesso quando c'hai quando una pagina parla soltanto di te ci sono dei ragazzi giovani che ti seguono e che ti stanno ascoltare e commentano quello che tu dici dalla mattina alla sera sempre è una roba che ti rende ancora più responsabile sapere che i tifosi dell'Inter mi ricordano con piacere fa altrettanto piacere per cui niente si va a lavorare ancora di più in maniera responsabile in maniera corretta mi sono dimenticato la domanda però poi che si no ma la rivincita personale non ce ne sono io ho sempre dato il massimo mi sono sempre comportato nella maniera più corretta possibile anche quando secondo molti di voi volevo far confusione ho litigato ho litigato per il bene della società per il bene della squadra ho sempre tentato di difendere quello che fosse un lavoro da portare avanti e che fosse un discorso un discorso di squadra però poi qualcuno naturalmente fa più piacere a quelli che sono amici di altri allenatori gli fa più piacere sapere che io faccio dire che io faccio confusione quando vanno nei show in televisione che altro ma da un punto di vista mio è sempre lo stesso il modo professionale di fare io sono bravo se la squadra gioca bene al calcio per farla giocare bene al calcio se preparo bene l'allenamento e so che dire al calciatore quando è più motivato quando è più demotivato se costruisco un video sintetico dove in dieci minuti un quarto d'ora perché sono quelli i tempi della disponibilità uno rimane impressionato riesco a infondere due cose in più e via non mi interessano altri discorsi Radio CRC e si prepara Canale 21 Buonasera Spalletti quello che il Napoli sta facendo quest'anno è storia di questo sport il Napoli e Spalletti lo stanno studiando l'abbiamo saputo anche i suoi futuri colleghi a Coverciano le chiedo in termini di gestione tattici di comunicazione o di quello che vuole ci dice la cosa che secondo lei ha fatto la cosa migliore che ha fatto dal primo giorno di ritiro ad oggi non capisco perché oggi l'abbiate presa così con i volermi ma io vengo sempre di conseguenza alla qualità dei calciatori vengo sempre di conseguenza a quella che è la disponibilità che loro hanno di conseguenza devo essere bravo a sollecitare delle cose e stare attento a che a che tipo di sollecitazioni loro vengono creano disponibilità e questo qui è basta noi abbiamo ancora ancora molte partite da giocare ne vogliamo giocare una per volta anche questi sono discorsi che appartengono già al futuro come se fosse avvenuto qualcosa non è avvenuto niente vogliamo giocare la partita di domani sera perché si gioca contro 11 se no si gioca contro 33 se si gioca contro 3 squadre via via sempre questo il discorso tutto a posto tutto tranquillo Canale 21 e si prepara Canale 8 Salve Spalletti mancano ancora 14 giornate alla fine del campionato si può scrivere una pagina importante anche nel percorso in Champions League a questo punto della stagione cosa è più stimolante la maturità o presunta tale raggiunta dal suo gruppo poter scrivere una pagina di storia importante per la società e per la città o la sua ambizione personale di vincere in Serie A allora mancano ancora delle partite per la sempre e via dicendo ve lo devo dire con sincerità secondo secondo me è un modo presuntoso di ragionare che non ci appartiene non deve appartenere nemmeno ai ragazzi se c'è una cosa che ci sta a cuore a tutti è quello che abbiamo già detto è vedere è un po' una qualità penso che debbano avere tutte le persone che la propria felicità è in base a che felicità riesci a distribuire a quelli a quelli davanti riesci a dare ai nostri tifosi tutto per lei ritorniamo a dire le stesse cose la cosa che più ci ci rende felici è vedere felici i nostri tifosi abbiamo già detto anche tante cose anticipando 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 quello che deve essere ancora il percorso da fare vedere la nostra città esplodere di gioia è la cosa che più ci sta a cuore Canale 8 e si prepara alla Repubblica Buon pomeriggio nella narrazione epica che si sta facendo di questa stagione straordinaria del Napoli c'è però una parte di racconto che non piace ai tifosi del Napoli e che insomma li lascia alquanto perplessi perché sembra quasi voler diminuire in qualche maniera quanto di straordinario sta facendo lei e la sua squadra ed è sottolineare come in realtà questo campionato sia diventato di un livello basso ripeto insomma vengono comunque raccontate le qualità del Napoli però poi viene sottolineato come in realtà il contesto abbia abbassato le performance da parte dei suoi competitor lei che cosa ne pensa? è una è una cosa anche quella che non penso perché occupo tutto il tempo a costruire bene le cose che dobbiamo fare noi poi in fondo valuteremo se ci sono delle differenze con i nostri avversari da un punto di vista mio domani la partita è un derby per quel condominio di cui abbiamo iniziato a parlare all'inizio dell'anno per guadagnarci un pianerottolo di quel condominio lì e e non ci interessano altre cose sicuramente per quelli che sono risultati in generale questi calciatori che noi abbiamo a disposizione stanno facendo delle cose importanti delle cose straordinarie e fino a questo momento gli va detto bravi gli hanno dati dei grandi meriti perché hanno fatto al di là di quelli che sono risultati ma hanno fatto delle grandi partite sono stati dentro il rettangolo di gioco a macinare roba ad avere idee a prendersi responsabilità a produrre calcio di quello fatto bene per cui si va anche lì a fare un discorso in generale non è una partita che vinci contro un avversario e porti a casa anche una una coppa in una competizione che ti può che ti può accorciare la strada per il successo perché possono essere tre o quattro partite e il modo ripetuto e continuativo di come sono scesi in campo e di quello che hanno fatto quello è il discorso che ci inorgoglisce Repubblica e si prepara Napoli Magazine sì salve buongiorno sono qui no vorrei chiederle il più 18 in classifica è qualcosa che voi non considerate proprio o rappresenta uno stimolo proprio sulla base di quello che diceva lei prima cioè dell'amore della città che scende in campo con voi anche perché domani saranno altri 50.000 ci saranno 50.000 tifosi allo Stato il più 18 non è una cosa da considerare noi noi dobbiamo sempre valutare le partite che andiamo ad affrontare per essere sempre gli stessi partita da dentro fuori quello è ciò che fa la differenza e giocarle tutte allo stesso modo magari anche in dieci come hanno fatto domenica Empoli quello diventa fondamentale il ragionamento di dare sempre un rispetto all'avversario totale di andare sempre a considerare che ti può succedere di tutto anche perché perché poi basta un dettaglio per invertire quello che nel calcio funziona così se si va a vedere in questo campionato sono successe delle cose se si attenti dalle quali prendere affinché non capiti a te ed essere bravo a metterle davanti ai giocatori per avere una condotta un modo di ragionare equilibrato e regolare per dove si vuole andare Napoli Magazine e si prepara Calcio Napoli 24 Mister allora tutti straordinari i calciatori impiegati è inutile citarne alcuni da Osimena a Kvara a Lozano tutti però ecco la forza di questo Napoli probabilmente è tutta anche in chi subentra e la chiave di lettura vera sta nelle cinque sostituzioni che permettono di dimostrare al Napoli il grande lavoro fatto anche dalla società da giuntoli dal presidente quindi unitamente a quello di Spalletti questa forza del Napoli che crea a mio avviso il distacco enorme che si è creato dalle inseguitrici può permettere di pensare senza guardare troppo al futuro però di aprire un ciclo con questi ragazzi un'osservazione corretta quella che fa lei nel senso che queste sono basi veramente buone abbiamo a che fare con un gruppo di calciatori forti un gruppo di calciatori sano dove c'è dove c'è roba fresca di quella che può esploderti in mano e può durare negli anni e qui la società è stata brava ha giunto l'estato bravissimo ad andare a a saper scegliere questi calciatori qui e a perlomeno ad aver individuato questi calciatori qui perché poi funziona così che tramite i suoi collaboratori tira fuori una serie di giocatori poi c'è da vedere se la società te li compra o non te li compra perché per cui bisogna saper sterzare qualche volta bisogna perché poi sempre devi tenere di conto di quelle che sono le possibilità che giustamente un presidente attento tiene come riferimento perché che funziona così però se non mi dimenti anche questa di domande quello che dice lei sulla possibilità di aprire un ciclo è una cosa che può succedere che può succedere perché perché ci sono dei ragazzi fuori che hanno giocato poco che hanno una qualità enorme che tutte le volte che vado a scegliere gli undici da far giocare mi piange il cuore perché Elmas ora andrebbe fatto giocare lui se lui lui non è mai venuto da me va bene ma se lui viene da me e mi dice mister mi dice che devo fare per giocare perché lei non mi sceglie io sono in prigione perché non saprei che rispondergli c'era Spadori che che il presidente è stato contento di di metterci a disposizione ma che quando si parlava con Giuntoli era una un investimento importante era difficile poi si guarderà se si non l'ho quasi mai fatto giocare ma lo Spadori è il futuro dell'Italia faccio per dire come tipologia di calciatore c'è Gaetano io scommetto su Gaetano con tutti se ho la possibilità di allenarlo io è chiaro che deve fare degli step di crescita Zerbin ha una disponibilità incredibile c'è Zeda Zedat che è un calciatore che non si è mai visto non l'avete mai visto probabilmente non l'avete mai preso in considerazione però mi avrebbe fatto piacere passare quel turno lì di Coppa Italia per farlo giocare per farvi vedere che calciatore era è per questo che quel turno di Coppa Italia lì non passato a me ha dato fastidio perché poi un paio di partite sì è vero e lo dico controcorrente a quello che può essere il mio vantaggio sì è vero che avrebbe quella partita o quelle due partite avrebbero influenzato un po' diciamo il ritmo di recupero della squadra però si potevano fare scelte tipo portare soltanto 15 calciatori in ritiro e quegli altri lasciarli a casa e farli giocare a quelli far sentire titolari di quella partita a quelli lì che non hanno mai giocato per eh sembra una qualche partita in più la giocata però è un altro è un altro di questi qui sì ce ne sono ce ne sono ancora perché poi la nostra rosa è profonda come sono profonde tutte le altre questo fatto che la nostra è più profonda degli altri insomma qui si obietta un po' però va bene se no si diventa quelli che non siamo simpatici ultima calcio napole 24 mister buon pomeriggio lei vive molto la città non so se ha visto comunque le tante testimonianze di affetto nei confronti della squadra tante bandiere dimostrazioni che vanno oltre il tifo che va che va allo stadio la sera cosa pensa Luciano Spalletti di queste dimostrazioni di affetto come se fosse una lunga attesa è difficile non far finta di niente perché diventa difficile non far finta di niente l'atmosfera è di quelle che si fa fatica a descrivere con le parole di quella che si incomincia a percepire però poi bisogna ribadire quello che abbiamo detto all'inizio rimaniamo concentrati sulle partite e scendete in campo con noi perché di voi abbiamo bisogno grazie a tutti